cari amici debate guru buongiorno e buon anno buon 2021 a tutti volevo iniziare con questa prima pillola del 2021 con il botto come si suol dire e quindi ci sarà sia la pillola audio questa qui che sto registrando sia una pillola scritta sul blog del sito www.debateguru.it allora per partire col botto ho deciso che voglio iniziare questo 2021 un po come come si può dire diciamo prendendomi la paternità di di un progetto e di un prodotto che sento particolarmente mio perché ho iniziato io utilizzarlo per fare le boilies e e ho costudito questo segreto abbastanza gelosamente per tanti anni nel mondo del car fishing si inventano pochissime cose per quello che riguarda l'esca la boilie in genere è un mondo fatto di scoperte cioè i tecnici o i self maker più illuminati riescono ad arrivare in contatto con prodotti o sostanze che poi si rivelano in pesca particolarmente efficaci pochissime aziende hanno creato prodotti ad hoc ma anche in questo caso si tratta proprio di uno o due prodotti in senso assoluto e allora mi sono detto ma tu sergio cos'è che hai scoperto certo io prodotti ne ho sviluppati molti quando ero con big fish ho fatto tante belle cosine per quello che riguarda l'esca ma la vera scoperta che diciamo posso vantarmi di aver fatto io sono le salse di pesce un prodotto molto particolare specifico che esiste da millenni perché la salsa di pesce fermentata molto probabilmente l'hanno inventata gli antichi romani si chiamava garum ed era un modo per conservare a lungo il pescato il pesce in quei secoli in cui non vi era alcun metodo di conservazione adeguato né tantomeno refrigerazioni e quant'altro il garum praticamente erano questi pesciolini di varia natura lasciati fermentare al sole fino a completo di scioglimento e poi stabilizzati con una salamoia col sale sostanzialmente fino a ricavarne questa salsa che poi veniva mangiata non mi è noto sapere come venisse mangiata nello specifico questo tipo di prodotto ad oggi è molto in uso in indocina in thailandia ci sono varie versioni anche l'italia ne ha delle sue perché l'italia vanta la colatura di alici che altro non è che un processo di fermentazione stabilizzazione dell'alice che però come tutte le eccellenze italiane è eccezionale per quello che riguarda la pesca ma estremamente costoso mentre dall'indocina ci vengono queste salse fermentate che hanno un prezzo veramente strepitoso perché quella che io utilizzo di più che è la squid brand attenzione non farvi trarre ningandone al nome perché il calamaro non c'entra niente proprio il marchio dell'azienda si chiama squid brand che si attesta attorno ai due euro al litro quindi praticamente questi piccoli pesciolini simili all'acciuga vengono prima essiccati al sole e poi lasciati fermentare in otri di legno o di terracotta immersi in un liquido che le ricopre per mesi quindi il processo che si innesca di natura batterica scompone tutte le sostanze organiche del pesce che si scioglie praticamente ok e quindi libera in questa salsa tutte le componenti amminiche quindi vari amminoacidi tutte le componenti minerali tutte le componenti grasse odorose e saporose si sciolgono anche le cartilagini liberando quindi delle proteine solubili sostanzialmente il tutto viene poi pastorizzato e stabilizzato col sale è un prodotto che quindi una volta imbottigliato si conserva perfettamente senza nessun problema questo prodotto è facilmente reperibile online o nei mercati quelli che offrono proprio l'etnico mi viene in mente grandi catene come l'ipertosano o il super famila e via discorrendo comunque non è complesso trovare ci sono vari marchi e nella pillola e sul blog vi darò svariati input in merito io ho scoperto questa salsa di pesce verso la fine degli anni 90 dopo la metà degli anni 90 perché mi ero già intrippato ne ho parlato anche nel mio libro è scritto nel mio libro mi ero già intrippato per creare liver mix e fish and blood mix avevo già iniziato a frullare il fegato a provare a far la predigestione casalinga utilizzando gli enzimi dei pesci del fegato e via vari altri elementi e quindi mi ero un po' imbattuto studiando il concetto di fermentazione sulla più famosa delle salse fermentate in commercio che è la salsa di soia nelle sue varianti negli anni 90 non molto note per dire la verità io ero a vezzo andare qualche volta in ristorante cinese ma non è che la soia fosse proprio così comunissima oggi con gli uliukenit la salsa di soia la conoscono tutti non tutti sanno che ci sono molte varianti e che la fermentazione della soia porta anche ad altri prodotti tipo il natto il miso e li ha discorrendo ma lasciamo perdere questo concetto nel cercare la salsa di soia che volevo utilizzare in un birfù dallo scopex andai nell'unico negozio credo nel coneglianese se non ricordo male quindi vicino la mia città che trattava questo tipo di prodotti etnici e sullo scaffale trovai questa bottiglia squid brand con lo stemma con la foto figura del calamaro fish sauce e subito pensai questo è salsa di calamaro e la comprai di botto perché non costava nulla peraltro poi approfondì la cosa mi informai e scoprì in effetti che non era calamaro ma questi piccoli pesci simili ad acciuga che venivano fermentati scomposti liquefatti e il loro succo organico fermentativo gustativo veniva proprio racchiuso in questa salsa spettacolare per caratterizzare in termini di gusto e attrazione le boili anche perché io all'epoca facevo quintali di boili e un prodotto del costo oggigiorno di pochi euro al litro era una manna dal cielo per me perché qualsiasi altro integratore tipo ammino qualcosa minamino carpamino eccetera costava almeno 20 30 volte di più era una cosa impossibile da utilizzare nelle boili nei quantitativi che io desideravo perché io non sono mai stato capace di concepire come una sostanza organica inserita in quantitativi di 10 20 ml in un chilo di farine potesse effettivamente essere eccezionalmente stimolante come desideravo io io avevo bisogno di dosaggi più importanti la dovevo sentire e volevo vedere il risultato eclatante in pesca e così iniziai a usare queste salsi di pesce quando nacque big fish portai questo mio know how in azienda ma la fortuna volle che fabio boscolo che è un imprenditore attento ma molto onesto che in quell'epoca stava proprio sviluppando i primi prodotti che erano i famosi keltia il mix stava nascendo una famiglia di prodotti keltia dove le mie salsi di pesce fermentato sarebbero potute essere il keltia liquid che avrebbe spaccato il mercato con un margine di guadagno incredibile per per il distributore e per i negozianti ma fabio non volle non volle perché questo prodotto si poteva tranquillamente semplicemente reperire anche in maniera autonoma per un privato in un mercato semplicissimo da raggiungere a prezzi estremamente contenuti e quindi qualsiasi ricarico non avrebbe giustificato l'investimento perché in parole povere si sarebbe venduto lo stesso prodotto a un prezzo più caro di quanto uno potesse trovarlo in maniera autonoma non è stato il gioco e quindi io continuo ad usare la mia salsa di pesce i miei amici hanno con più intimi hanno continuato per la salsa di pesce qualche input l'ho dato anche nei vari forum nei vari consigli tant'è che decine di voi mi possono essere testimoni del fatto che hanno ricevuto da me il suggerimento di utilizzare queste salsa di pesce e so di decine di appassionati che è dieci anni ormai venti anni che usano queste salse di pesce con risultati straordinari risultati straordinari perché questo è un prodotto straordinario ha una pil sulla carpa fortissimo è fortemente idrosolubile e come concetto costa poco e non ha un sovradosaggio quindi io posso proprio caratterizzare pesantemente le mie esche che siano da pescata veloce o da pasturazione lo posso usare come dip lo posso usare per impastare la pastura il metodo lo stick mix perché questo connubio di salsa molto salata peraltro rispetta anche abbastanza il pva quindi riesco a impastare mettere nella retina e lanciare tranquillamente con un grande effetto di stimolazione di natura squisitamente organica perché tutti quei prodotti che nascono dalla scomposizione della carne dei tessuti delle lische della pelle del pesce sono estremamente attraenti e estremamente naturali come stimolo da portare in acqua per la ricerca delle grosse carpe un prodotto che io vi consiglio un prodotto che vi non voglio dire omaggio perché non è che ve lo regalo dovete comunque acquistarlo ma vi renderete conto che il prezzo è estremamente vantaggioso quindi vi omaggio per questo 2021 di questa alternativa ai costosi liquid food e lo faccio perché dopo aver scritto il libro dei Vait Guru una delle mie mission è far riscoprire a tanti neofiti il piacere della pasturazione preventiva che dà alla pesca alla carpa una connotazione e una sfumatura così specialistica da farla diventare veramente più goduriosa e per farlo bisogna investire nelle esche e questa è una cosa che costa e io non me la sento di passare per un commerciale che vi spinge a spendere più soldi possibili e quindi mi sento di darvi questa pillola con questa indicazione in modo che negli anni se vi va vi possiate ricordare che da Debate Guru dal libro Debate Guru e dai consigli di Sergio avete potuto attingere delle informazioni molto utili per cambiare il vostro approccio di pesca e avere magari dei risultati eclatanti e un domani potermi anche poter anche condividere con me la cattura del vostro pesce più bello che è da sempre una delle soddisfazioni più grandi che io provo quando da quando ho iniziato a occuparmi di esche specialistiche per la pesca alla carpa buon anno a tutti buon 2021 e salsa di pesce per tutti